guarda gesù cristo il figlio di dio che è andato a morire in croce per i tuoi e per i miei peccati noi ci siamo battezzati nella fede nel suo nome non dobbiamo guardare né a destra né a sinistra se i fratelli cadranno se i fratelli si svieranno noi dobbiamo piuttosto pregare per loro ma dobbiamo seguire solo gesù io insisto con questa cosa solo gesù solo gesù cristo lui è l'autore compitore di fede poi è chiaro che coloro i quali seguono veramente gesù in tutto noi li troveremo a fianco a noi nel seguitare il divino maestro che ci porterà in cielo presso il padre suo celeste e ci darà forza dello spirito santo per combattere il buon combattimento della fede e trionfare gloriosamente dinanzi a questa avanzata del male perché è scritto voi siate come luminari in questo mondo di tenebre quindi non possiamo minimamente desistere dobbiamo invece essere testimoni autentici testimoni veramente di luce testimoni di vita e la vita si oppone alla morte la vita si oppone alle tenebre la luce è contraria alle tenebre alleluia gloria a dio camminiamo in vittoria non guardiamo né a destra né a sinistra non guardiamo quelli che cadono o quelli che si sviano guardiamo solo Gesù Cristo e seguitiamolo perché noi vogliamo essere dei vincitori che riceveranno quella corona di vittoria nel cielo gloria a nome di dio